Però tu canti e sei qui per cantare e la sfida che fai qua è piccola rispetto alla sfida che farei fuori quando sarai senza questo. Quella sì che diventa più difficile, capito? Ma ti fidi quando ti dico che sei brava? Sì. Ti fidi quando ti dico che quando sono momenti di difficoltà e panico devi collegarla alla testa e non spaventarti? Collegala Lille, collegala. L'hai collegata? Sì o no? Dimmi un po'. No. No. Neanche un attimo? No. Allora, ma un secondo, sei contenta di fare la sfida? No. Sì, devi essere contenta. Sì.